Ha prima colpito al volto il pescatore col quale aveva avuto una violenta discussione e ha poi tentato di affondarlo, sparandogli la barca. È stato un vero e proprio duello tra pescatori, quello avvenuto circa a due miglia dal porto di San Nicola, piccola frazione del comune di Monte Corice. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Pollica, diretti dal maresciallo Lorenzo Brogna, che hanno denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria di Vallo della Lucania, MDM, un pescatore di 48 anni, residente a Santa Maria di Castellabate. Quest'ultimo è accusato di minaccia grave, di danneggiamento della nave e omissione di soccorso. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 48enne, dopo aver violentemente litigato con il pescatore di San Nicola, CR, di 27 anni, lo avrebbe speronato creando una grossa falla all'imbarcazione. Alla base del litigio, secondo la ricostruzione dei militari dell'arma, ci sarebbero dei contrasti dovuti al posizionamento delle reti nello stesso tratto di mare. Il 27enne, infastidito dalla richiesta del 48enne di non pescare più in quella zona, avrebbe manifestato telefonicamente il suo dissapore. Una divergenza che non è piaciuta al pescatore di Castellabate, che lo ha raggiunto in mare con la propria imbarcazione. Prima ha minacciato di spararlo, poi lo ha speronato causandogli una falla e gravi danni alla cabina di comando. Successivamente, come se non bastasse, mentre l'imbarcazione imbarcava acqua, l'ha affrontato anche fisicamente sferrandogli un pugno al volto e gettandogli contro un martello e un tubo di ferro. Poi la fuga e rientro in porto, mentre il maccapitato è rimasto in mare in attesa dei militari della Guardia Costiera di Agropoli, che sono arrivati sul posto dopo pochi minuti e lo hanno tratto in salvo.